D'accordo, allora vi lascio una domanda eseguita e straordinaria del quadro a Pogliamonti diretta dal maestro Utilisabetta Friscotti. L'amore a Pogliamonti L'amore a Pogliamonti L'amore a Pogliamonti L'amore a Pogliamonti e l'uvescua e l'uvescua justum a te priatum a te priatum e l'uvescua e gerine e gerine salva torre a te priatum 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 Grazie a tutti. 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 Amen. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amen. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti.